Beh giusto, io registro un video così Lo so anch'io, si Teniamoci conto che io sto registrando il video Dei preferiti di agosto Con questa specie di maglione, non è proprio maglione Ma fuori piove Perché io questo video lo sto già registrando Tipo un 12 di settembre Fatemi sapere se questa tipologia Di video vi piace Che magari ve la porto Da settembre in poi Sul mio canale Perché a me piace questa tipologia di video La guardo stra spesso Però non so perché non l'ho mai registrata Io direi di iniziare con le domande La prima domanda è Canzoni del mese? Allora ce ne sono davvero tantissime Soprattutto quelle estive Per esempio Quella di Briga nel Nel male e nel bere Mi ricorda davvero Troppo l'estate queste canzoni Questo cuore è per mezzo Soprattutto me la vuole la pena O sarà Ho una cosa rassaggiata Come muovi la schiena Vabbè appunto questa Un'altra canzone è ABB di Gali Mi piace fumare con la Mi piace fumare con la Fiora In altre cittade Una fa tenerla da dietro E smanfare la norma Mentre cucinano E' rosa Di appetitoso Del vino rosso Guardare dei documentari E' sull'universo E' su come funziona Un'altra canzone è Chiudi gli occhi Che ve l'avevo già fatta sentire Nel video Dieci cose che Odio Penso O dieci cose che non sapete Su di me direi Che è questa Ultima canzone Voglio ballare con te Di Baby Kay Uscire e fare Ok queste erano le canzoni Una cosa che odio Follemente Voi non avete idea E' che qua sopra Dove registro io Il video Non prendo il wifi Quindi Capitemi Seconda domanda Accessorio preferito del mese L'accessorio ce l'ho su E questa collana L'ho ottenuta Tutto il mese di agosto Comunque Questa collana qua Con la ballerina Vado un po' più alla luce Eccola Che me l'aveva regalata Per il mio compleanno Ritorna a fuoco Perché sono tipo blu? Raga Ok Questa collana Me l'avevano regalata Per il mio compleanno Non so perché Ma non l'ho mai usata Particolarmente E pensate un po' Che per il mese di agosto L'avevo sempre solo su Terza domanda Cover del mese Ce ne sono un paio di cover Bensì ce ne sono Quattro Che adesso vi faccio vedere Tutte queste cover Me le ha inviate Il sito My case Che ovviamente Trovate il link Del loro sito Nell'info box La prima cover Che vi faccio vedere È questa qua Come potete vedere C'è scritto Single Taken E pizza Ovviamente io ho scelto pizza La particolarità Di queste cover Adesso qua sarà buio Ma va bene È che sono tutte Trasparenti E quindi si può vedere Perfettamente Il dietro dell'iPhone Che ragazzi Il dietro dell'iPhone È davvero bello La seconda cover È questa Che penso sia La fine del mondo C'è scritto Shut up I'm a fashion vlogger Non so perché l'ho presa Perché comunque Io non sono una fashion vlogger Ma mi piaceva davvero tanto E ho deciso di prenderla La terza cover È questa qua Che secondo me È davvero strabella Perché ha tutti i particolari Non lo so Mi piace un sacco Dove c'è questa ragazza Di schiena Con un vestitino E tutti i fiori sopra Con la sua valigia E il suo cappellino E raga Wow Quarta e ultima cover È questa qua Dove c'è questa ragazzariccia Con tutti i capelli Diciamo all'aria Non lo so Con scritto Girl Power E wow Sono stupende Questo sito Ci mette davvero pochissima A consegnare le cover In due giorni Che arrivano a casa E come potete vedere Sono tutte morbide Wow Comunque nell'info box Trovate il link Del loro sito Quinta domanda Credo Non lo so Comunque due caramalle qua Come la possono stare Prodotto make up del mese Il prodotto make up del mese È questo qua Che è una cipria Della Benefit È questa cipria Davvero buonissima Voi non avete idea È una cipria Davvero buonissima Io ve la consiglio Perché fa sia da cipria Che da fondotinta La mia È La colorazione Oh ne Comunque Quale non è Ve la consiglio davvero tantissimo Prattutto se soffrite un po' come me Di brufoli Soprattutto in fronte A causa del sudore E niente Ve la consiglio un sacco Capo di abbigliamento del mese È questo top Che vi avevo già fatto vedere In In un video haul Davvero Che è di intimissimi L'ho indossato davvero tantissimo Al mare Magari alla sera Per uscire Come potete vedere È tutto di pizzo Ed è wow E dietro qua È un po' Aperto Non si riesce a vedere Comunque aperto Bellissimo Scarpe del mese Anche queste ve le avevo già fatte vedere Sono le mie amatissime sauconi Di questo colore Che non ho mai visto Infatti tipo Sono mie E niente Wow Bellissime Film Barra Serie tv Delle mese Io Non guardo Nessun tipo di film Nessun tipo di serie tv Quindi non mi posso consigliare niente Questo era il video Sicuramente Avrò saltato delle domande Ma scusatemi È il primo video Che ho fatto preferito Del mese Lasciate un bel like Così capisco Se magari continuare Questa tipologia di video O meno Io vi mando Un grosso bacio E seguitemi Su tutti quanti i miei social Ciao